Cambia ancora il profilo della città nelle zone fra Celletta e Santa Veneranda. Dopo anni di abbandono, i capannoni fatiscenti all'angolo fra Via del Novecento e Via Bonini sono stati demoliti la scorsa settimana. Nella settimana corrente si sta infatti pulendo l'area cantiere dalle macere per preparare la costruzione di un nuovo supermercato. Un intervento che da un lato riqualifica un'area degradata e dall'altro apre le strade ad una nuova struttura di media distribuzione di 2.500 m2. Un'opera che fu approvata da un consiglio comunale di otto mesi fa senza voti contrari. Questo perché l'intervento non riguarderà solo la realizzazione di un supermercato. L'azienda privata che acquista l'area avrà infatti a suo carico una riqualificazione del valore di 110.000 euro per parcheggi e migliorie alla viabilità ciclabile e pedonale come scomputo di oneri di urbanizzazione. A sorgere su quest'area sarà un sì superstore ed è stato già oggetto di discussione nei mesi scorsi il fatto che si tratterà del terzo supermercato fra media e grande distribuzione collocato su via del 900. Il primo fu l'AEO ora diventato Famila Market. Da qualche anno si è aggiunto il Conad Superstore ai margini dell'interquartieri e dal capo apposto della via ora sorgerà un terzo supermercato probabilmente già nel 2023.